Ciao a tutti, io sono Ellie e oggi siamo in un nuovo video di The Sims 4, ma questa volta non sono qui per giocare con voi, ma per presentarvi appunto un nuovo contest. Non so se ci avete fatto caso, è uscito un nuovo contest su tutti i miei social, Instagram, sul canale Telegram, l'ho messo anche nella community di YouTube, però nel caso se non l'avete visto, qui c'è il video apposta per spiegarvi, per mostrarvi come trovarlo, come funziona se non avete mai fatto una shell, per spiegarvi meglio le regole così se ci sono dubbi c'è questo video e andiamo tutti tranquilli, anche se non è che sono stata molto cattiva con le regole, è molto semplice, avete piena libertà di fare quello che volete, ma facciamo una cosa alla volta. Allora iniziamo con dove cavolo si trova sta shell? Ecco, andiamo in galleria, mettiamo l'hashtag Riccioli Green, eccolo qua, e vi uscirà appunto Riccioli di Day, che sono io, Green Shell Challenge. L'andiamo a scaricare e deve essere messa per forza, questa è una regola, dopo ve le mostro, per forza in un lotto 30x20, perché non potete cambiare la grandezza del lotto, quindi lo scenario potete metterla dove vi pare, assolutamente, io la metto a Willow Creek perché è la prima città che esce sempre e quindi uso sempre Willow Creek, così proprio per pigrizia. Quindi andiamo ad inserire il nostro lotto in un lotto 30x20, scenario, scegliete voi quale, e andiamo a vedere la shell. Eccoci qua, allora questa è la shell di base che ho fatto io. Voi potete cambiare, allora adesso vi metto le regole, vi mostro le regole e le leggiamo insieme, prima di spiegarvi poi nel dettaglio tutto quanto, se ci sono dubbi e togliere appunto tutti quanti i dubbi. Allora, qui ci sono le regole che trovate su Instagram, sulla community di YouTube, sul mio canale Telegram, ce le trovate praticamente ovunque, su Instagram lo salvate nelle storie in evidenza, quindi trovate praticamente tutto, se avete problemi mi contattate su Instagram, su Telegram, su YouTube, dove cavolo vi pare, su Twitch mi contattate, io vi rispondo. Allora, Green Shell Challenge, lotto 30x20, quindi già vi dico la grandezza dell'otto, che, qual è, e poi ovviamente, allora, non si possono usare i contenuti personalizzati, quindi cc, non li potete usare, non si può cambiare la grandezza dell'otto, resta 30x20, come vi ho detto già prima appunto, la grandezza dell'otto non può essere modificata, perché ho deciso di dare una via di mezzo in modo che tutti, anche quelli che magari non sono abituati a buildare, eccetera, possono, con una via di mezzo, possono andare tranquilli, perché se l'otto era 20x15 era troppo piccolo, se era 40x30 era troppo grande, io per prima in 40x30 dico, ma che cavolo, ci metto in un 40x30, e quindi appunto, ho fatto una via di mezzo così, siamo tutti tranquilli, felici e contenti. Poi, non si può spostare o cambiare la struttura della Shell. Queste sono le tre cose che non si possono assolutamente fare, tutto il resto potete fare quello che volete. Quindi praticamente, ovviamente spostare o cambiare la struttura della Shell, quindi la Shell è in quel punto lì al centro, deve rimanere lì, non la potete spostare un po' a destra, un po' a sinistra, un po' su, un po' giù, no. Quella deve rimanere lì dove sta, dove la trovate, lì deve rimanere la Shell. E anche ovviamente non potete aggiungergli i muri, non potete appunto buttare giù i muri già esistenti, quindi non potete fare assolutamente nulla di queste cose qua. Invece, che cosa potete fare? Sì, potete cancellare o spostare gli oggetti già presenti, le decorazioni, quindi gli alberi, i fiori, tutte queste cose qua, le cose già esistenti, le potete appunto, le decorazioni le potete cambiare, cancellare o spostare. Potete arredare la struttura della Shell interna ed esterna, quindi c'è sia la... ma dopo vi faccio vedere meglio. Sì, aggiungere decorazioni al resto del lotto, quindi sopra tutto il terreno, lo potete appunto abbellire come più vi piace, potete lasciare le decorazioni che ci sono, ma anche toglierle e mettere delle vostre, o aggiungere a quelle già esistenti altre decorazioni. Sì, aggiungere muri solamente nella parte inferiore della Shell, quindi sopra non potete aggiungere muri. Sì, a qualsiasi categoria di lotto, quindi potete fare un parco, potete fare un ristorante, potete fare una casa, potete fare quello che vi pare e piace, non ci sono limiti alla creatività. Sì, a cambiare i colori degli oggetti già presenti se si vuole, e sì, debug e tool come mod. Quindi usare sia il debug lo potete usare, e la mod e la tool la potete usare. Allora, adesso io rimpicciolisco questa immagine. Ennesimo aereo. Stavo dicendo, la Shell è questa, è sottoterra, quindi sta qui sotto, vi faccio vedere appunto così, sta qua sotto la Shell, questa è tutta la Shell che voi dovete arredare, non potete spostarla, quindi non mi potete spostare questo un po' più in qua, un po' più in là, un po' più su, no. Aggiungere muri, quindi non voglio mettere qua, faccio un corridoio più lungo, non si può fare, assolutamente no. Questa l'ho messa dove stava. Questa deve rimanere così come sta. Questo pure non lo potete fare più piccolo, più grande, non si può fare. Questo come lo vedete così deve restare. Queste le potete togliere, le piscine, se volete modificare sopra, perché comunque non fanno parte della Shell, fanno parte delle decorazioni. Quindi queste se volete le potete togliere. La Shell è questa. Questa roba strana qua. E dovete, e qui, potete aggiungere i muri. Qui dentro, anche qua, se volete, potete aggiungere i muri. E per, appunto, infatti io ho lasciato un quadrato grosso in modo che voi potete fare quello che volete, cioè nel senso ve lo dividete come volete, in base a quello che volete creare, giustamente. E quindi, stessa cosa qua fuori, quindi sotto, nella parte inferiore della Shell, sarebbe tutta questa, potete tirare sui muri. Ma non potete cancellare i miei muri. I miei non li potete cancellare. Potete solo tirare su voi dei muri e aggiungere le cose come volete. Qui, appunto, potete decorare, potete cambiare il colore della scala, potete cambiare il colore del tetto, o potete, appunto, cambiare tutto quanto. Qui fuori potete cancellare tutta questa roba qua, tutte le decorazioni, quindi i fiorellini, gli alberi, questo, se non vi piace, potete cancellarlo. Le piscine, appunto, fanno parte delle decorazioni. Potete cancellare tutto quanto perché magari avete un'idea diversa del lotto che volete fare e questo è più... cioè io l'ho fatto molto generico, eh. Cioè questo, secondo me, secondo il mio personalissimo parere, questo sta bene sia per un parco, sia per una casa, sia per un negozio, per un ristorante. Cioè, secondo me questa location va bene per diverse cose, però se voi volete fare tipo una cosa desertica, una cosa fantasy, queste cose qua, cioè che magari non ci azzecca niente con quello che ho messo io, potete benissimo toglierlo e farete quello che volete. E quindi, appunto, queste cose le potete togliere. L'importante è che la mia shell resta qui, dove sta. Pure questi fiorellini intorno li potete togliere, potete togliere la cassetta postale se non vi serve, se non è una casa non vi serve a niente la cassetta postale, quindi potete toglierlo. Il mio ovviamente qua è residenziale, quindi la cassetta postale ci sta. Però voi potete scegliere la categoria che volete, assolutamente. Potete fare quello che volete tra tutte le cose che ci sono. Potete usare, appunto, ovviamente tutti i kit, tutto quello che volete. Tanto io ho tutto, quindi andate tranquilli. Usate tutto quello che vi pare, sbizzarritevi. Quindi sì, potete usare, appunto, i kit nuovi, tutte le espansioni, tutto quanto. L'importante è che non usate i contenuti personalizzati, perché non ho nessunissima voglia di scaricare i contenuti personalizzati. E poi se tutti iniziano ad usare i contenuti personalizzati, mi tocca scaricare 85.000 cc e non ho voglia. Lo dico proprio, schietto, schietto. E basta. Allora, che altro c'era? Non si può cambiare la grandezza del lotto, ve l'ho spiegato. Questo lotto può essere in qualsiasi scenario, ma deve rimanere 30x20. Appunto, la shell, come vi ho detto, deve rimanere così. Non potete spostare assolutamente nulla. Ah, deve, questa shell, questa, deve rimanere così. Come l'ho messa io? Dove l'ho messa io? Non potete spostarla. Poi vi ho detto, appunto, sì che potete cancellare questo, lo potete cancellare, lo potete rimuovere, potete togliere questo coso del terreno, potete togliere i fiorellini qua, la recinzione qui, questo, le piscine. Potete cancellare tutto quanto, tutto quanto. L'importante è che vi lasciate la shell così come l'ho fatta io. La scala è inclusa nella shell, eh. La scala è inclusa nella shell, non si tocca. Ma al massimo potete cambiarle il colore, ma non si tocca. Deve rimanere qua la scala. Potete cambiarla se volete, ma l'importante è che resta qui, in mezzo, a dare fastidio. Perché di lato no, di lato non si mette la scala. In mezzo a dare fastidio deve stare. Poi, sì, aggiungere decorazione al resto del lotto, appunto. Qui sopra potete decorarlo come volete. Togliete tutto sta baradam di alberi e arredate come volete, come ovviamente si più sta con il vostro tema. Aggiungere muri solamente nella parte inferiore della shell, quindi abbiamo detto solamente qua e qua, qua in mezzo, se volete. Potete aggiungere i muri, ma non potete appunto cancellare i miei muri. Poi, sì, a qualsiasi categoria di lotto, o sì, a cambiare i colori degli oggetti già presenti, quindi sì, appunto, vi potete cambiare il colore della scala. Se ne volete mettere un'altra, appunto, fatelo. L'importante è che resta qui. Quindi usate la scala che più vi piace. L'importante è che resta qua. Se volete mettere anche questa qua, appunto, senza il muretto, potete farlo. L'importante è che la scala resta qui, dove l'ho messa io. Poi non me ne frega niente se togliete il muretto, se la lasciate col muretto, eccetera, ho sbagliato, eccetera, eccetera. Cioè, l'importante è che resta qui la scala. Potete aggiungere, appunto, porte, finestre, quello che volete qua. Qui fa tutto parte della shell, potete aggiungere, appunto, tutto quello che volete, farla del colore che volete, del tema che volete, eccetera, eccetera. E... E boh, basta. Nel caso, appunto, decidete di tenere questi oggetti che ho già messo io, potete cambiare il colore. Assolutamente. Come vi ho detto, potete cambiare il colore al tetto. Quindi, boh, le regole sono semplicissime. Non c'è molto da aggiungere, secondo me. Se avete dubbi, contattatemi. La data di scadenza è il... Tutto il giorno. Io poi, appunto, il giorno dopo, quindi il 10 giugno, andrò a cercarle attraverso questo hashtag. RiccioliGreen. Quindi, ricordatevi di mettere questo hashtag. Oppure mettete anche RiccioliGamer. Io piuttosto guardo anche RiccioliGamer. Ma mettete tutti quanti RiccioliGreen. Anche se ve lo dà col contenuto personalizzato, non importa. Perché a volte la galleria lo fa. Chi vi dà col contenuto personalizzato? Io spunterò la barra del contenuto personalizzato in galleria. Così le vedrò tutte. Non me ne scappa nemmeno una. Però, cosa importante, mettete l'hashtag giusto. In modo che io posso trovarle più facilmente. Perché va a fine che voi partecipate. Magari avete scritto sbagliato. Tanto è semplicissimo come hashtag. Non è che ho messo una cosa difficile da ricordare. Voi, appunto, scrivete sbagliato. Io, ovviamente, non so che voi avete caricato. E non faccio vedere la vostra shell. Quindi, è un peccato. Perché comunque avete lavorato tanto. E io non la vedo. Perché magari, che ne so, c'è una lettera sbagliata. Quindi, controllate bene l'hashtag. È scritto qua. È scritto ovunque, comunque. E, appunto, niente. Consegna 9 giugno compreso. Allora, il 10 giugno io prenderò tutte quante le shell. Vedrò quali sono arrivate. Le cercherò tutte quante. Quindi, voi avete tempo, appunto, fino al 9 giugno per caricarle. Quando le vedremo le shell? Le vedremo, appunto, in live sul canale Viola. E vi comunicherò la data attraverso Instagram. Su Instagram, nelle storie, vi pubblicherò, appunto, quando farò quella live. Cercherò di pubblicarvelo in anticipo. Così, magari, vi preparate. Se non riuscite ad assistere alla live, a parte che rimane salvata sul canale Viola, però, comunque, io poi la scaricherò, la edito e la carico anche su questo canale YouTube, su Richely Sims. Perché, appunto, adesso, se magari non ci avete fatto caso, non lo sapete, apro una piccola parentesi. Adesso io ho due canali YouTube. Uno, che è questo qua, Richely Sims, dove porto esclusivamente The Sims 4. Mentre Richely Gamer è diventato il secondo canale dove porto tutti gli altri giochi in stile categoria indie, appunto, a cui mi piaceva giocare, mi piace ancora giocare. E a volte li porto in live, a volte li registro e li pubblico, appunto, sull'altro canale. Quindi, se vi piace entrambi, entrambi la categoria di giochi, iscrivetevi pure al secondo canale, Richely Gamer, che, appunto, è diventato quell'altro di videogiochi misti e non solo di The Sims, perché questo canale è diventato solo ed esclusivamente di The Sims 4. E, tanto, trovate, appunto, andate sulla home, trovate il riferimento all'altro canale e sull'altro canale trovate riferimento a questo. Quindi, comunque, sono facili da trovare. E, niente, che altro vi devo dire? Assolutamente nulla. Ho detto tutto, spero che sia stato chiaro. Al massimo lasciatemi un commento se non vi è chiaro ancora qualcosa, se avete dubbi, se mi sono scordata di dire qualcosa, perché può essere, tutto può essere. Quindi lasciatemi un commento sotto, nei commenti. E così io vi leggo, vi rispondo, risolvo i vostri dubbi e basta. Io vi saluto, spero che partecipiate, che vi divertiate. Ho avuto questa idea, appunto, di fare la Shell sottoterra, perché mi piaceva un sacco. La voglio arredare pure io, giusto per divertimento, perché l'ho creata avendo una mezza idea di quello che poteva diventare. E, niente, mi sfizziamo un sacco questa cosa, quindi penso che parteciperò pure io. Ovviamente non mi, non verrò votata, però per il gusto di farla, per il gusto di farla, di vedere che cosa potrebbe uscire. Parteciperò pure io, e poi, niente, io vi saluto, vi auguro buon divertimento nel partecipare a questa Shell. E noi ci vediamo su questo canale o su quell'altro, se decidete di seguirmi, oppure sull'altro canale, con i prossimi video. Ciao!